Ho lasciato la mia casa nella Reef Valley 200.000 anni fa per emigrare in Europa. Ho sepolto la mia mamma Lucy sulle rive del fiume Omo e ora sono tornata da emigrante a rivedere la mia terra, la mia casa, il bush, gli alberi di Mopane e di Amarula e poi belve, fuochi, fumo, odori e odori acre, allegria, gentilezza, sorrisi delle persone. E vedete la mia mamma? Sì. Quindi dicevamo che non possiamo fare questo, quindi sentiamo. Sì. 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 Beate sc инsela, ad acerito di sarno, opa le sarno! No. 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 Grazie per aver guardato il video.